allora tu praticamente quando vedi quando vedi che sto bene fai click il telefono riconosce e fa la foto non devi schiacciare niente anzi no devi schiacciare questo qua bianco ok inquadrami stai solo attento a prendere tu quello che vedi si vede ma tu dove vai fuori lì lì non che si vede il pane ecco lì però io non vedo allora fammi vedere se sta funzionando sì sta funzionando sì allora quello che vedi tu e quello che poi si vede in questo tastino bianco a sinistra per far la foto puoi farne anche più di una è gratis ma non abbassarti stai diritto ecco sta fermo eh sta fermo guardo dritto di là no no guarda te no stai diritto con la schiena ecco così così cos'è che devo dire no devi schiacciare il tasto bianco quello rotondo a sinistra in basso farne anche più di una ma io ho schiacciato eh ma si salvano e dopo le guardiamo ma mi si vede bene adesso devo stare per attraverso perché così non si vede ecco così così sta fermo così sta fermo eh sta fermo eh aspetta non vedo la testa aspetta 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 ecco sta fermo eh non vedo la testa ecco cosa dico no devi solo schiacciare però se vuoi dire clic fa più scena ne faccio una mentre sorrido ma non è che l'hai fermato ok adesso non fa più le foto no strana questo qua bianco si ma continuo a schiacciare puoi farne tutte quelle che vuoi poi la scegliamo ecco si ma si vede il pane no aspetta aspetta non farlo cadere eh no ma come sei diventata brava a posto l'ultima sì adesso davanti solo davanti aspetta aspetta che non c'è sola testa fammi ciao ciao l'ultima così così che sono un po' fashion ti piace? io non so io adesso guardiamo Grazie.